Quest'anno ha preso parte diversi internazionali come a quello di Oliva in Portogallo, Manheim e Genslerena ottenendo anche una buona posizione nella gara mista di un metro e quaranta, è stata ottava. Alla notte, cruca e assassine, e in mezzo al patro c'è una contadina, la tua soltanto, una bambina, i cinque anni e i cinque anni, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, non ancora tornati. Generale, dietro la stazione, lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermata neanche per pisciare, Si va dritti a casa senza più pensare Che la guerra è bella anche se fa male Che torneremo ancora a cantare 84 secondi e 56, così chiude Sensero degli ostacoli con una leggera infrazione sul tempo massimo, due le penalità con il quale Barbara va a chiudere il suo ottimo primo round Viene ernoite Grazie a tutti